Oggi abbiamo il piacere di avere ospiti nei nostri studi alcuni componenti di un'associazione che si chiama AIMA, i miracoli dell'amicizia. Loro vengono da Bitonto, abbiamo il piacere di avere gli ospiti nei nostri studi. Saluto il presidente Francesco Naglieri. Ciao Francesco e benvenuto. Salve, buonasera. Un saluto a te e a tutti quanti i componenti, una parte dei componenti di questa associazione. Perché siete qui non solo per parlare appunto di questa associazione che si chiama AIMA, i miracoli dell'amicizia, un'associazione culturale laica, ma soprattutto perché avete dato vita ad una rappresentazione, un musical dedicato a Padre Pio. Allora, andiamo per ordine. Come nasce questa associazione? Mi colpisce molto i miracoli dell'amicizia, perché? Sì, abbiamo voluto dare questo nome, ovviamente confrontandoci con gli altri, per evidenziare un aspetto fondamentale. Quello che ci unisce è un'amicizia vera, disinteressata, un'amicizia basata sulla fede e anche sul volersi bene, quel bene genuino che andiamo cercando. Noi siamo un gruppo di amici che ci conosciamo da una vita, sono 25 anni che ci conosciamo. Ci siamo dispersi negli anni per vari motivi, per motivi di lavoro, io sono stato fuori tanti anni e 4 anni fa sono ritornato a Bitonto e ho voluto proprio riunire tutti i vecchi amici. E ho notato in loro che c'era veramente il desiderio di ricominciare, perché 25 anni fa avevamo fatto delle rappresentazioni, delle cose in parrocchia, eravamo ovviamente piccoli. Però ritrovarsi grandi, maturi e con questo ricordo vivo ha portato in me il desiderio di voler creare questa associazione. E di qui è nato il mettere in scena la vita di Sampio in un modo diverso, anche perché essendo figlio spirituale di Sampio e consigliere regionale dei gruppi di preghiera, il Sua Eccellenza, Monsignor Castoro, ci ha dato un input, dicendo appunto che dobbiamo rinvigorire i gruppi di preghiera. E quindi da qui è nata proprio l'idea di mettere su questa rappresentazione chiamata appunto Padre Pio e il Crucifisso con loro, nella semplicità, perché è una rappresentazione molto semplice. Non vi sentite attorio. No, anzi, assolutamente. È un modo anche questo per evangelizzare, soprattutto per far conoscere la figura di Sampio. E poi perché abbiamo avuto anche l'onore di avere l'aiuto, perché io credo molto nel fatto di dover chiedere, di bussare. Forse il mio modo di essere, quindi ho avuto il contributo di avere con noi Michele Paolicelli, l'autore del musical Forza Venite Gente. E lui, quando è venuto da noi alla rappresentazione, infatti ha detto che vedeva in quest'opera come una conseguenzialità del suo musical, infatti ci sono alcuni brani, alcuni canti che lui ha cantato con noi, perché rappresenta San Francesco come guida spirituale appunto di Sampio. Anche che sappiamo tutti che Sampio è figlio di San Francesco. Esatto, figlio di San Francesco. Poi chi non ha messo in scena, almeno una volta, in parrocchia o nell'associazione Forza Venite Gente. E' un club. Speriamo, vi auguriamo che magari tante altre parrocchie possano mettere in scena questa rappresentazione dedicata a Sampio. Ce l'auguriamo. Andata in scena quando? La prima volta? Il 25 maggio di quest'anno. Di quest'anno, quindi in occasione proprio dell'anniversario della nascita di Padre Pio. Sì, infatti abbiamo deciso quella data proprio per la nascita di Sampio. Effettivamente di fatto l'abbiamo fatto circa otto anni fa, l'abbiamo ripetuta con un altro gruppo di preghiera dove io ero responsabile, ovviamente molto in piccolo tra di noi, e quindi l'abbiamo portata anche qui a San Giovanni Rotondo a casa sollievo della sofferenza proprio. E' stato un momento il 18 dicembre del 2005. E' stato molto bello perché l'abbiamo fatto per gli ammalati. Questa volta invece l'abbiamo arricchita, ecco, con i canti, scenografia. L'altra volta era una cosa molto più semplice. Quindi questo desiderio di portare il messaggio comunque è in me da diversi anni. Quindi ringrazio loro che hanno dato modo di poter realizzare anche questo mio desiderio. E' un desiderio di tutti, dice la signora Rosa. Un desiderio di tutti. E' bello anche il fatto che tu abbia detto, Francesco, che vuoi coinvolgere le famiglie. Infatti in questa rappresentazione c'è tua moglie, c'è appunto tua figlia, c'è l'altro figlio che non è presente. Il figlio, ecco. Raccontaci appunto come si svolge la rappresentazione, quali sono i punti salienti. Sì, la rappresentazione è molto semplice. Ho voluto mettere in evidenza alcuni punti. Intanto il nonno. C'è un nonno, un signore anziano. Ed è rappresentato? Che è rappresentato da Michele. Michele. Che racconta la storia di San Pio ai piccoli. In questo caso è Nicla. Nicla è una bambina che sta paralitica sulla sede a rotelle, che sta in giro con la mamma, che è fatta nella rappresentazione da Rosa, mentre cammina e vede questo gruppo. C'è un sacerdote, il nonno e un gruppo di ragazzi, che fuori la chiesa stanno recitando i vespri. Quindi una di loro invita Nicla a pregare e rimangono con loro. In questo contesto il sacerdote appunto dice che il nonno ha conosciuto di persona Padre Pio. E lui racconta a Nicla la storia di San Pio, i punti salienti. Iniziando dal primo episodio, da quando San Pio, diciamo, ha già messo in risalto la sua fede, il suo amore per Gesù. Quando da piccola, sappiamo tutti la storia, che all'età di cinque anni, lui ha fatto il primo miracolo nella chiesa di Sant'Anna. Ecco, c'era una donna che aveva una bimba gravemente malata. Questa donna butta, rappresentando in questo caso Damina, mia moglie, butta i piedi dell'altare questa bimba dicendo alla Vergine o prendila oppure ridammela sana. E in quella situazione, in quel momento, in chiesa, c'è appunto Padre Pio piccolo con i genitori, che si rivolge a Maria e dice io ti voglio tanto bene, quindi sarebbe bello che tu faccia qualcosa per questa bambina. Ecco, nella rappresentazione abbiamo proprio la Madonna Maria, che in questo caso è fatta da Maria Rita, che appare, ovviamente mentre tutti pregano, e solleva questa bambina, quindi avviene il primo miracolo. Quindi da lì il nonno racconta a Nicola che ci sono stati tanti miracoli, per arrivare poi ai punti salienti. Abbiamo, prima di tutto, la scena delle stimmate. Fatta con molta semplicità, San Pio è di fronte al crocifisso, quindi ovviamente riceve le stimmate dal crocifisso, però questa scena è arricchita da un momento, credo molto emozionale, che ha fatto piangere molte persone nella rappresentazione, perché dal centro della chiesa è venuto Gesù con la croce e ha donato a Padre Pio proprio una croce enorme di legno. Quindi San Pio prende questa croce ed esce di scena. È stato un momento veramente toccante. Soprattutto per chi conosce la storia di Padre Pio. Per chi conosce la storia. Abbiamo veramente visto gente che piangeva durante la rappresentazione. Questa è una delle scene cardini. Poi dopo di questa abbiamo la scena, abbiamo anche messo degli aneddoti che Padre Pio diceva, quindi anche per sdramatizzare, perché il Padre Pio con le stimmate sì, ma il Padre Pio uomo, il Padre Pio che diceva le barzellette, che raccontava le sue storie alle confratelli. Abbiamo inserito questa scena. Abbiamo inserito la scena dell'inaugurazione di Casa Sollievo della Sofferenza e collegata a questo una scena molto, molto bella, molto forte, la lotta con il diavolo, rappresentando da Piero Robles, che non è presente, che lui fa proprio teatro. È una scena veramente imponente, con delle luci rosse, proprio forte dal punto di vista... Anche quella toccante. ...molto toccante. E lì c'è stata l'introduzione, l'intrusione di Michele Paolicelli, che come appunto figlio, padre spirituale di Padre Pio, solleva Padre Pio da questa sorta di dolore e lo prende in braccio con il canto, appunto, l'angelo biondo. Perché Padre Pio chiede aiuto all'angelo, dice aiutami a risolvermi questo problema. Quindi proprio lo abbraccia e c'è l'uscita di scena in questo momento. Poi c'è un altro punto saliente dell'ultima messa. Ovviamente questa è la scena e la rappresentazione abbiamo da un lato questo gruppo con il nonno che racconta, quindi si spengono le luci, come un libro, si apre dall'altra parte del libro e c'è la scena, le varie scene. E c'è il racconto, appunto, dei momenti salienti della vita di San Pio. Con l'inaugurazione della Casa Sollevo della Sofferenza. Sì, abbiamo fatto l'inaugurazione con il successivo, appunto, la lotta con il demonio. E poi c'è l'ultima messa. Abbiamo messo in scena anche l'ultima messa con proprio un altare vero perché l'abbiamo fatto in chiesa. Quindi abbiamo trasformato la chiesa, la scenografia fatta anche dal nostro Gian Pio, lui architetto, e quindi è riuscito a farci questa scenografia. Abbiamo stravolto, ovviamente, la chiesa e proprio con l'ultima messa. E lì anche un altro momento bello perché c'è stato Michele Paolicelli che ha cantato il canto, penso che tutti noi conosciamo, Luna, appunto, del musical Forza Venite Gente. Perché Luna? Perché abbiamo voluto mettere in risalto un aspetto che quando l'uomo sta per morire il Signore illumina con appunto il candore della luna la persona. Quindi c'è proprio la scena in cui appare la luna, quindi San Pio che rimane da solo e San Francesco che canta e poi lo abbraccia e lo porta di scena. E poi per arrivare alla scena finale appunto della morte di San Pio che è anche qui raffigurata in un modo completamente nuovo perché abbiamo fatto quando San Pio muore sulla sedia a rotelle ci sono degli angeli che appaiono portano dei veli in modo tale che l'effetto era quello di stare in cielo. Avevamo creato un pochino questa scenografia e viene Maria la Vergine che fa il miracolo a Nicola quindi va sulla sedia a rotelle la solleva e quindi la fa camminare nel frattempo appare Gesù e insieme Maria e Gesù perché sappiamo che San Pio nel momento in cui stava per morire invocava Maria e Gesù appaiono lo prendono sotto braccio e appunto escono di scena e con il canto finale appunto di lodare il Signore con il canto di Michele Paolitelli laudato sì quindi questo lode al Signore perché lui è andato in paradiso ed è nostro sta qui con noi lo sentiamo nostro E' bello Francesco che tu abbia come figlio spirituale di Padre Pio e poi sia anche appunto consigliere regionale dei gruppi di preghiera per la diocesi di Conversano Monopoli abbia deciso nonostante gli impegni di famiglia il lavoro e tante altre cose di dedicare e soprattutto di mettere a servizio degli altri questa tua conoscenza della vita del Santo di Pietrelcina soprattutto la devozione anche questo è un modo per dire grazie a Padre Pio e anche un modo per evangelizzare perché la musica e il teatro sono anche questo Gian Pio ha il microfono in mano quindi ti tocca parlare ti tocca parlare da dove vogliamo cominciare dalla tua devozione per Padre Pio o dall'esperienza fatta io inizierei proprio da questa storia da come nasce la devozione la devozione nasce in famiglia nasce 50 anni fa da la mia nonna materna non a caso ti chiami Gian Pio e noi ci arriviamo la nonna materna si recava qui a San Giovanni Rotondo in preghiera e ha avuto diciamo l'onore insomma di essere confessata alcune volte dal padre nella mia famiglia quindi io sono cresciuto nato con la presenza spirituale presente tutti quotidianamente della figura di Padre Pio poi c'è stato appunto un episodio legato alla vita di mia madre la notte tra il 22 e 23 settembre mia madre era incinta di me e diciamo la sua gravidanza non stava svolgendosi nella maniera più serena per cui si era affidata moltissimo all'aiuto della preghiera di Padre Pio per il tramite della nonna che in confessione aveva chiesto un aiuto nella preghiera quella notte tra il 22 e 23 settembre mia madre è stata graziata si vuol dire da un sogno cioè mia madre ha sognato Padre Pio che le presentava le mani e le mani erano prive delle stimmate ora mia madre non sapeva nulla non sapeva che quella notte era la notte del trapasso non sapeva che durante quella notte sarebbero sparite le stimmate e all'indomani ha raccontato ad una sua amica questo sogno che aveva fatto e la sua amica in lacrime disse vedi questa notte è morto Padre Pio è davvero commovente e particolare quello che ci ha raccontato tu quanto tempo dopo sei nato Gian Pio allora io sono questo il sogno quindi 23 settembre ad aprile dopo qualche mese sono nato sono nato la gravidanza poi è andata secondo i canoni siamo qui io che mia madre quindi è stato quasi un sentimento profondo quello di mia madre di voler conservare questo legame forte con la figura di Padre Pio anche nel nome e lì c'è stato anche qualche problema perché il sacerdote che il parroco dell'epoca disse ma questo non è un santo non si può dare questo nome perché non è ancora riconosciuta pienamente la sua santità e per cui venne fuori questa fusione di due nomi Giovanni che è il nome del mio nonno paterno e Pio legato fuso insieme come Gian Pio e questo poi me lo sono portato per tutta la vita perché poi questa devozione è passata anche a me perché è inevitabile che quando in famiglia la devozione è molto forte la devozione passa ai figli esatto è proprio così ora io invece sono qui e ho partecipato a questa associazione e a questa attività che vuole far rivivere la vita del santo con la mia famiglia dopo 45 anni ho anche io una mia famiglia una moglie e due bambini ci siamo rincontrati con Franco la mia bambina va in classe con Nicola e quindi è stato quasi un fatto spontaneo rimettersi a lavorare e dire bene ora è il momento di fare qualcosa per i nostri figli affinché quello che noi portiamo nel cuore passi ai nostri figli quindi l'associazione e la vita di Padre Pio messa in scena come sacra rappresentazione è il modo che noi abbiamo pensato affinché i nostri figli si appropriino della vita di Padre Pio e dell'esperienza del santo e la facciano loro esatto Nicola ti andrebbe di rispondere di dire qualcosa che cosa ha significato per te recitare ti sei emozionata quando hai recitato si è stato emozionante ti è piaciuto ti è piaciuta la rappresentazione è stato emozionante andare in scena si immagino è la prima volta soprattutto senti e invece Padre Pio che cosa ne pensi di questo grande santo che è un po' anche il nonno di tutti noi è molto buono è buono Padre Pio con te è buono Padre Pio con te tu lo conosci ne parliamo a casa e ti racconta quando ne parliamo fai le preghiere tuo Padre Pio è una devozione che non ha bisogno di parole quella di Nicola c'è e basta il grande infatti si chiama Francesco Pio l'altro figlio è molto bello questo è bello appunto anche il fatto che le famiglie si siano incontrate dopo tanti anni che abbiate appunto creato questa associazione e poi vi auguriamo davvero di continuare così magari anche per altre rappresentazioni perché come giustamente dicevi Francesco avete fatto vostro il messaggio lanciato dallo stesso Monsignor Michele Castoro di rinvigorire i gruppi di preghiera quindi cercare di inglobare anche tanti giovani perché no tante famiglie questo è l'obiettivo perché purtroppo al di là dell'associazione al di là ora come consigliere regionale c'è questa problematica che i gruppi sono anziani perché ovviamente c'è questa devozione forte da parte degli anziani per San Pio però i giovani non vedono la spiritualità di Padre Pio come una spiritualità vicina è più vicino San Francesco d'Assisi la storia di San Francesco è più come una storiella quindi attira di più i giovani nonostante sia molto molto più antica di quella di Padre Pio è vero San Pio forse secondo me ecco il valore della croce la sofferenza che San Pio spaventa i giovani perché quando io capita che parlo con qualche giovane c'è ma San Pio ha sofferto molto quindi la paura della sofferenza invece stiamo cercando di far capire che la sofferenza vista dal punto di vista cristiano è un momento di gioia è un momento in cui ci porta Gesù la sofferenza fa parte della nostra vita noi abbiamo conosciuto proprio San Pio nella nostra famiglia attraverso la sofferenza quindi la nostra spiritualità la mia quella di mia moglie nasce proprio da una conoscenza nella sofferenza di Padre Pio in un momento difficile e San Pio abbiamo capito che voleva da noi che soffrissimo in quel momento e non so se Mina vuole raccontare in breve se permetti se vuole sì assolutamente in breve la storia in breve oggi noi abbiamo un altro figlio più grande di Nicla che si chiama Francesco Pio appunto con pied 17 anni il 18 dicembre quindi è nato il 18 dicembre del 96 il giorno in cui Padre Pio è stato reso venerabile quindi questo 9.25 infatti arrivò la telefonata di mio padre dice Franco vedi che in questo momento hanno fatto venerabile Padre Pio in quel momento ero all'ospedale uscì il medico dalla sala e è nato tuo figlio io ho avuto anche una gravidanza molto difficile la gravidanza di Francesco Pio quindi mi ero affidata durante il periodo a San Pio quindi continuavo a pregare affinché lui mi fosse vicino e mi aiutasse ad avere questo bambino nato Francesco Pio all'età di due mesi è stato colpito da una broncopolmonite fulminante l'abbiamo portato immediatamente in ospedale ma i medici ci avevano detto che ormai il bambino era clinicamente morto sì io purtroppo non riesco non riesco a volte si mi tocca tantissimo e invece hanno tentato praticamente con Flebo a riportarlo insomma a riprendere il bambino all'ospedale di Bitonto sì che era praticamente dietro casa anche perché il pediatra ci disse che non saremmo riusciti ad arrivare a Bari quindi il bambino era proprio in fin di vita ma questo è successo nel giro giusto di qualche ora e arrivati in ospedale gli hanno messo poi la Flebo hanno cercato di portarlo già di aiutarlo e dopo tre giorni in cui il bambino è stato sempre con Flebo macchinari vari per la respirazione controllo della respirazione una sera ero in stanza con il bambino e ero un po' assorta nei miei pensieri intanto in questi tre giorni il bambino ogni volta che lo tenevo in braccio lui guardava una parete vuota e sorrideva come se ci fosse qualcuno con cui giocava invece questa parete era completamente bianca se lo rigiravo dall'altro lato lo stesso aveva questo punto di riferimento per lui molto importante una sera ero in stanza con il bambino in braccio ad un certo punto ero assorta dei miei pensieri sento la signora che era con il bambino accanto al lettino dietro di me che mi chiama e mi dice Mina ma hai sentito il bambino io sono rimasta un po' così perché non mi ero resa conto di quello che era successo avevo visto solo entrare una mia sorella in stanza riuscire e andare via rientrare subito Franco nel momento in cui rientrava Franco e questa mia amica mi aveva un po' fatta tornare alla realtà guardo il bambino e Francesco Pio guardandomi mi chiama mamma questo tutto all'età di due mesi e logicamente poi ha parlato all'età normale come tutti i bambini cioè non era un bambino un prodigio ma era stato forse un segnale forte che era venuto appunto dall'alto e il giorno dopo Francesco Pio ha cominciato a riprendersi a star bene e dopo una settimana di decenza siamo tornati a casa intanto in questi giorni di ospedale di ricovero dopo che il bambino mi aveva dato cioè attraverso il bambino aveva avuto questo segnale hanno portato delle immagini di un'immagine di madre Teresa di Calcutta e di San Pio facendola guardare al bambino che va solo due mesi per cui non il bambino ha cominciato a giocare come se era amico conosceva queste persone questi santi e ho capito ho collegato tutto quindi ho avuto insomma la testimonianza che in effetti c'era stato l'intervento di San Pio in questa sua guarigione infatti poi venimo a San Giovanni portammo la testimonianza e padre Gerardi Plumeri che c'è un articolo anche perché serviva anche per il processo e abbiamo anche l'onore di avere a casa una reliquia proprio di San Pio che padre Gerardo donò al bambino proprio in occasione perché io in quel momento l'unica cosa che riuscì a dire quando il pediatra mi chiamò da parte lei era nella stanza e disse Franco preparate perché ormai il bambino è clinicamente morto io in quel momento freddo freddo la cosa che riuscì a dire è che ok vabbè signor te lo stai prendendo padre Pio ti ringrazio perché almeno per due mesi ho avuto il dono di essere padre c'è chi non ha nemmeno questa possibilità io non so se questa frase ha toccato il cuore di San Pio il cuore di Gesù non lo so però fatto sta che poi Francesco Pio è qui con noi e compirà quanti anni? 17 anni bene allora tanti auguri a Francesco Pio e allora ringraziamo di cuore gli amici dell'associazione AIMA i miracoli dell'amicizia per essere stati con noi grazie a tutti speriamo di avervi nuovamente a San Giovanni l'Otondo magari con la rappresentazione magari appunto speriamo il prossimo anno di avervi una conclusione Francesco sì niente io volevo solo intanto ringraziare te le padre Pio per questa ospitalità spero come hai detto di essere qui di portare questa rappresentazione nel luogo sacro nel luogo dove San Pio è vissuto e volevo approfittare per ringraziare tutti loro perché io indegnamente ho preso questa responsabilità però è chiaro io credo molto nella comunione quindi senza di loro i presenti gli altri che non sono potuti venire non possiamo fare niente volevo ringraziare anche la parrocchia dove abbiamo fatto la rappresentazione il parroco che comunque ci ha accolti come un gruppo di giovani anche di diverse parrocchie e ha dato la possibilità di mandare in scena questa nostra rappresentazione perché di lì poi è nata l'associazione però senza il suo aiuto senza il suo contributo senza l'aiuto di Don Gianni non staremo qui ora a raccontare ecco volevo ringraziare tutti quanti per questo e grazie ancora per essere stati con noi grazie a lei oggi e grazie a voi amici per averci seguito grazie a voi 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 grazie a voi